Noi lo sappiamo che tu non volevi fare del male a Lorenzo Però ci vuoi dire perché l'hai fatto? Presidente, è inutile continuare Maria non lo vuole dire Quelle sono cose tra bambini A me sembra proprio che lei non se ne renda conto Qui c'è un bambino che si è lussato una spalla L'abbiamo dovuto portare in ospedale E quindi mo' camma fa? No, 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 aspetta, aspetta un minuto Non lo faccio con te No, tu non sei bene a fare niente Tu la mamma non la sai fare Io mica rischio di perdere il mio lavoro per fregare a voi Le truffe non sono state mai Io non le faccio queste cose E se succede qualcosa io la risolvo sempre Vuoi sentire una canzone famosa del mio paese? Ehi, calma, calma, che succede? Tu avvocato a telefono non risponde due giorni Come lo risponde? Non ti è, lui non ti è E' un genio Ma non sto la bocca Carmi, ma che cazzo ne sai? Oh, no, 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 no Oh, ma sei scema a parlare di così cosa a telefono, non è? Vuoi mettere in dei casino pure a me? Ma non sta a Biberovi Oh, ma chi si sta a ità? Sono che Biberovi, che ti serve? Non mi posso fermare? Io devo continuare Tu? E' che bubba tu? Me la porto io le persone Picciri, ma che non è una cosa facile Io tengo un contatto buono alla moschea Questo è uno che mi può portare tutti i musulmani che arrivano Non so se mi spiego Non so se mi spiego E' una cosa